Dopo 110 anni chiude il salumificio Spiezia. I titolari della storica azienda di San Vitaliano hanno comunicato la drammatica decisione ieri sera agli 84 dipendenti che dal gennaio scorso non hanno percepito alcuno stipendio. Le trattative con possibili acquirenti sono tutte naufragate. Da lunedì si apre la procedura di liquidazione. I lavoratori senza più speranze per protesta hanno bloccato ed occupato la strada di accesso al salumificio. Sono sul piede di guerra. L'aria è davvero pesante. Chiediamo alle istituzioni un aiuto perché non possono mandare 80 famiglie e passa in mezzo alla strada. In più abbiamo una storia e tutti i miei colleghi sono tutti dei grandi lavoratori. Abbiamo lavorato sodo, abbiamo dato tutto a questa azienda. Adesso basta. Ci interessa la continuità del lavoro. Loro ci devono dire la verità. Punto. L'ho potente non la miseria. Per diverse ore i delegati delle sigle sindacali e il sindaco di San Vitaliano Antonio Falcone sono stati a colloquio con i titolari dell'azienda. Una volta terminato il confronto il delicato faccia a faccia con i lavoratori. Da parte di tutti quanti, soprattutto dei proprietari, la volontà di risolvere il problema perché pesa anche per loro. Hanno sempre fatto di tutto per reinvestire e riattivare un poco tutte quelle che sono le procedure per la lavorazione. Mi dispiace perché siete responsabili delle vostre famiglie, avete delle scadenze, bisogna onorare tanti impegni e quindi i costi purtroppo ci sono. Però cerchiamo a denti stretti di andare tutti quanti avanti, di non perdere la calma soprattutto perché se si perde la calma non si arriva a niente.